Vorrei dirle, Santità, che qui è a cassa, quale fratello atteso e amato. La comune contemplazione del Signore Cercifisso e Risorto favorisca la completa guarigione delle nostre ferite passate, perché davanti ai nostri occhi, al di là di ogni distanza e in comprensione, risalte Lui, il nostro Signore e il nostro Dio. Signore e Dio, che ci richiama a riconoscerlo e adorarlo attorno a un solo altare eucaristico. Che questo avvenga presto. Grazie. Grazie.